E' soddisfatto nel giro d'Italia della vostra squadra, avete dato spettacolo? E' soddisfatto, e la gentile che lo dice, perché da quando siamo partiti di tutti applaudirsi, soddisfatto. Almeno una squadra come la nostra vinci due tappe, tutte le fughe sempre, combattiva, tenace, grintosa, e dopo abbiamo vinto la meglio tappa, la più spettacolare è stata quella che ha vinto la Bocchini, è stata incredibile, bellissima, e cosa davanti, credo che la mia squadra è stata non forte, fantastica, e siamo stati anche sfortunati, perché avevamo perso pozzato, il gatto non era nelle migliori condizioni, però sono non contento, sono stra felice. Bene, e le prospettive di Guardini, dove può arrivare? Può essere il reale antagonista di Mark A20 in futuro? In futuro sì, sicuramente. Deve essere calmo, deve crescere con tranquillità, deve ancora migliorare tanto, ma l'unico che può battere K20 nelle tappe e corse giuste. Però deve ancora migliorare il mondo, molto molto molto. Grazie.